Ciao, sono Giacomo Aragagni, sono il cantante e il chitarrista di 4Clock e il mio lavoro è fare musicista. Ho cominciato a suonare nel 2008 prendendo qualche lezione di chitarra classica e di chitarra acustica private per poi iscrivermi al conservatorio quando sono entrato alle scuole medie, superando il test, però facendo come strumento clarinetto e percussioni. Tuttora studio canto e continuo a suonare chitarra, pianoforte e in studio suono anche tastiere, synth e programmatori. Sono il cantante di una band pop punk e precedentemente ho avuto altre due band, tra cui Mystic Music e The Sparks che esistono ancora adesso. Il mio progetto con questa nuova band che si chiamano 4Clock l'ho cominciata alla fine dell'anno 2014, quando ho deciso di staccarmi dalla band che avevo creato precedentemente, che è stata un'esperienza che è durata ben 4 anni. Con i 4Clock posso dire di essere molto soddisfatto, anche se è un lavoro molto difficile, perché abbiamo tantissime prove da fare, tantissime sessioni in studio e soprattutto molti concerti. Questo lavoro è molto faticoso perché ti devi oltre preparare psicologicamente, ma anche preparare come strumentazione, come preparazione a livello musicale, come imparare testi, imparare delle posizioni nuove, imparare come muoverti sul palco. E diciamo che grazie a questo lavoro ho avuto anche la possibilità di conoscere molti musicisti, come appunto Federico, il chitarrista di Liga 2, al quale ho l'onore di aprire i concerti tuttora. E questa esperienza mi ha portato a conoscere anche moltissime persone delle quali sono molto amico tuttora e con cui sto condividendo ancora la mia strada e possiamo dire che è un'esperienza dura, ma ne vale la pena.